Con questo video voglio riepilogare gli aiuti sotto forma di bonus che il governo sta mettendo a disposizione Questo è il famoso bonus di cui ho fatto un video qualche mese fa Si parla di 500 euro divise in 200 euro che possono essere investiti in una connettività internet Come minimo da 30 megabit per secondo in download e 300 euro per l'acquisto di un tablet o un pc Per accedere a questo bonus il vostro nucleo familiare deve avere un ISEE inferiore ai 20.000 euro Il bonus viene gestito dalle compagnie telefoniche Vodafone, Team, Fastweb e varie compagnie locali L'idea è che il bonus venga applicato direttamente dalle compagnie telefoniche Un esempio pratico è quando effettuate una sottoscrizione di una connettività internet Potreste avere questi 200 euro spalmate sotto forma di sconto direttamente dalla bolletta Ad esempio 10 euro al mese per 20 mesi Mentre per quanto riguarda il tablet o il pc Le compagnie telefoniche stesse mettono a disposizione alcuni modelli che potete acquistare Non possono essere richiesti questi due bonus separatamente L'idea è di migliorare la connettività casalinga di alcune famiglie E offrire un dispositivo come appunto un tablet per accedere ad internet Il suggerimento in questo caso è di guardare i siti delle compagnie telefoniche O semplicemente fare una ricerca su Google con una stringa tipo bonus pc 500 euro Vodafone o Team o Fastweb o qualsiasi altro operatore telefonico In questa maniera potrete trovare direttamente la pagina Il link che vi porta appunto alla pagina in cui c'è la procedura per ogni compagnia telefonica Da seguire per richiedere questo bonus Questo è il bonus per monopattini elettrici, biciclette e biciclette elettriche di cui si parlava quest'estate Se non siete stati in grado di accedere al sito in cui è possibile richiedere il voucher Niente paura perché il governo ha esteso come dire il periodo in cui si può richiedere questo bonus Tutto ciò ha validità retroattiva quindi se nei mesi precedenti avete acquistato uno di questi mezzi E non siete riusciti a richiedere il bonus se volete acquistarlo in queste settimane potete richiederlo In questo caso non ci sono limiti di sé ma c'è una condizione cioè che abitiate, che abbiate la residenza in un paese, in un comune con un minimo di 50.000 abitanti Per ricordarvi come funziona copre al massimo fino al 60% del costo del mezzo con un tetto massimo di 500 euro Vi lascio qui sotto in descrizione il link a cui dovete collegarvi per richiedere se avete appunto i requisiti sopra citati il vostro voucher 50 euro di sconto che verrà applicato direttamente dal venditore per l'acquisto di una nuova smart tv Questo bonus in realtà è presente già dal dicembre 2019 però è il caso di ricordarlo Ed è stato fatto per andare incontro al cambio di standard Cioè sappiamo che nel 2022 passerà lo standard digitale terrestre DVB-T2 E quindi questo piccolo incentivo è stato fatto per permettere a tutti coloro che hanno una tv o un decoder non compatibile Di acquistare appunto una nuova smart tv o un decoder compatibile Potrà anche in questo caso accedervi chi è in un nucleo familiare con ISEE massimo di 20.000 euro Per utilizzare questo bonus dovete compilare una modulistica e presentarla direttamente al venditore Vi lascio qui sotto in descrizione il link diretto del sito del governo dove potete scaricare non solo la modulistica da compilare Ma anche consultare le pagine in cui ci sono tutti i modelli di decoder UTV compatibili con questo bonus Vi ricordo che esiste ormai da tempo la possibilità di avere una detrazione fiscale IRPEF del 50% Sull'acquisto di elettrodomestici fino a un tetto massimo di 10.000 euro Sto parlando della possibilità di cambiare frigorifero, lavastoviglie, forno, fornello e via discorrendo L'unico requisito è che i nuovi prodotti acquistati siano come minimo in una classe energetica A+. E l'altra necessità è che venga fatto in contemporanea o abbiate fatto nell'ultimo anno del lavoro di ristrutturazione Con il lavoro di ristrutturazione si intende tutte quelle opere straordinarie Quindi magari se avete in programma rifare qualche facciata, qualche cappotto termico Comunque soluzioni di questo genere Ricordatevi che contemporaneamente se dovete cambiare qualche elettrodomestico potrete accedere a questo bonus Mi sono limitato chiaramente ai bonus quelli un pochettino più tech Però in realtà ci sono un sacco di altri bonus disponibili per aiutare chiaramente le famiglie che più ne necessitano Vi lascio magari dei link informativi qui sotto in descrizione Quindi vi raccomando date un'occhiata Se qualcuno conosce anche qualche altro bonus un pochettino specifico o particolare Lo invito a segnalarlo qui sotto nei commenti Io vi ringrazio per avermi seguito Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale E noi ci vediamo in un altro video Ciao Ciao